L'Agenzia Casa Clima ha ripreso il concetto della riqualificazione energetica di qualità che si chiama Casa Clima R da un anno e stiamo rivedendo la nostra linea guida. La procedura, ovvero l'obiettivo del sistema è di fare della qualità sulla riqualificazione senza però di aumentare la complessità della riqualificazione. Per cui l'obiettivo è di semplificare le metodi e le regole, diciamo anche i requisiti minimi però soprattutto di dare un aiuto tecnico e tecnologico al progettista per cui stiamo anche lavorando a un catalogo dei nodi o delle soluzioni parziali in funzione che il tecnico poi capisce quali sono possibili criticità sull'ambito dei punti termici, sulla formazione di condensa e di muffa. Per cui l'obiettivo finale è di riuscire a scavalcare la soglia dei best practice sulle riqualificazioni e di aumentare il numero delle qualificazioni dei risanamenti energetici come già in Alto Agile succede con oltre 500 riqualificazioni all'anno sull'ambito di 1500 edifici certificati all'anno.